fratelli bianconeri e non non ho veramente più parole sono abbacchiato sì sono abbacchiato ma non per la sconfitta sconfitta perdere a milano ci può anche stare non è quello ma come sempre è il modo in cui vedi che non funzionano le cose sono gli approcci alla partita la gestione di una partita motivazioni pari allo zero ma soprattutto una condizione fisica che definirla preoccupante dire poco allora qui o abbiamo dei preparatori atletici che starebbero bene a coltivare i campi di risola in cina in corea o se no non me lo spiego non me lo spiego perché questa squadra praticamente o non corre oppure corre molto male quindi cosa vuol dire se non corre non hai il fiato se corri vuol dire che non sai dove andare quando corri è molto semplice se due più due a casa vostra come a casa mia fa quattro della serie fatti due domande e datti tre risposte non due ora veniamo a fare un'analisi della partita ma anche stasera purtroppo c'è poco da commentare una juventus che parte bene dopo dieci minuti sparisce un quarto d'ora voglio esagerare sparisce letteralmente sparisce dal campo giocatori alcuni veramente in una condizione psicofisica c'è aberrante aberrante come diceva e come dice ogni tanto il buon mughini abborro e lo abborro veramente nel nel senso più completo del termine una squadra inguardabile una squadra senza senso senza motivazioni senza grinta senza rabbia agonistica senza voglia di vincere una squadra composta da giocatori dove stasera sembrava veramente la metà dei giocatori che giocassero proprio quasi per dispetto errori che se lo faccio se li facevo io quando avevo otto anni il mio allenatore dell'epoca mi dava i calci nel deretano è emblematico il passaggio in orizzontale di vlaovic per il gol del 2 a 0 del milan sono cose che insegnano anche alla scuola calcio di non farlo ora un'analisi più approfondita ancora dei giocatori la faccio nelle pagelle che faccio fra un attimo però quello che voglio dire comunque che allegri allenatore palesemente ha finito il suo tempo a torino deve andare via allegri vattene via perché sei una cosa penosa obrobriosa e vomitevole per il bene della juventus lasciaci liberi veramente sei ingestibile inascoltabile inaffrontabile sei una cosa vergognosa come allenatore detto questo presenta almeno a mio modestissimo parere per quel poco che io capisco di calcio già di partenza una formazione sbagliata perché per me giocare dall'inizio ha voluto lui paredes l'ha voluto lui a tutti i costi in una partita come questa lo lascia in panchina babò ce le spiegherà le cose quindi già per me formazione sbagliata dall'inizio oltre a questo cambio quadrado non si è capito non si è capito il motivo il cambio di quadrado anche questo ce lo spiegherà stava male ma se è una scelta tecnica è una scelta perlomeno incomprensibile ciò non toglie però che la gente voi potreste dirmi ma demon quadrado come ha giocato va bene ok ci sta però è sempre uno di quei giocatori che ti può inventare qualcosa quadrado prima di toglierlo l'ha tolto perché era già munito perché lo vedeva nervoso diciamo che ha fatto bene se fosse questo il motivo ok prima di arrivare alle pagellazze c'è da dire una cosa allora il gol del milan nasce palesemente da un fallo sullo stesso quadrado un fallo nettissimo non fischiato che avrebbe ovviamente impedito il gol del milan ma quando le cose vanno male è ovvio che anche gli episodi ti si ritorcono contro ed ecco perché io non amo molto attaccarmi agli arbitri perché per me l'arbitro non è che lo fa apposta fischiartelo così quando ci andavano bene a noi le cose non pensavo alla mala fede adesso che ci vanno male non penso alla mala fede anche perché se pensassi a questo avrei già smesso di seguire il calcio detto ciò ripeto ancora per la miliardesima volta che per me allegri è il punto debole di questa squadra ovviamente dopo la dirigenza che è la principale responsabile di questo splacelo o andiamo di pagellazze e cominciamo scezni mi voglio allargare gli do sei gli do sei perché ci salva la grandinata del terzo gol per il resto credo che possa essere criticato fino a un certo punto perché non vedo quali altre quali colpe cioè non quali altre quale colpe possa avere stasera in questa disfatta per cui mi limito al 6 e non voglio andare oltre ripeto e ribadisco io metterei in porta per in io e danilo 5 certo che vedere danilo combattere con raffa leao è una cosa abbastanza improba però diciamo che malissimo malissimo non fa però ripeto pur non essendo il capo espiatorio di queste partite così vomitevoli anche lui non è che si distingue per chissà quali partite per cui mi fermo al 5 e mezzo diciamo che cerca di cavarsela in un modo o nell'altro ma bonucci giocatore finito neanche da zaterone neanche da catapulta ma proprio da seppellire giocatore palesemente finito ma finito proprio neanche con la catapulta un giocatore proprio da rigor mortis cioè rigor mortis proprio giocatore da cacciare via senza neanche più passare dal via questi sono giocatori che a 32 33 anni devono andare via perché diventano delle palle al piede ok questo pretende non solo fare il capitano ma anche quello di essere il leader di questa squadra volete sapere chi era il leader di questa squadra era buffon perché perlomeno buffon nonostante che io negli ultimi due tre anni l'avessi criticato per altre cose ma in campo buffon era un vero leader perché buffon ti attaccava al muro questo è questo qui allegri questo qui e altri quattro di cui adesso valuteremo non sul zaterone ma peggio molto peggio molto peggio giocatore finito finito non gli do nemmeno il voto bremer 5 e mezzo fa quel che può alla mi sembra che a un certo momento abbia che spiorato un gol però sinceramente anche lui al quale io stasera non voglio dare colpe particolare però anche lui si perde nel marasma cioè non è questo il giocatore dal quale noi ci possiamo aspettare in difesa quel qualcosa in più non è lui io continuo a dire la mia per me cento volte per me vedremo andando avanti se avrò ragione o mi sarò sbagliato alexandro 5 cosa vuoi ormai si è ridotto che anche questo è un giocatore palesemente finito zaterone la fionda la catapulta mettilo tiralo dove vuoi ma anche questo è un altro che per piacere via in mezzo la in mezzo ai cannibali anche questo questo sta bene la in mezzo ai cannibali così almeno sappiamo che ce ne liberiamo sicuro veramente altro giocatore che ormai non sopporto più questo si è ridotto che fa il minimo del compitino e non fa nient'altro quadrado gli voglio dare cinque perché ha cominciato abbastanza bene qualcuno ha detto vedi però ha sfiorato il gol per me quello non è un gol sfiorato ma è un gol mancato perché se avesse se non facesse sempre con la sua testolina di dire voglio essere egoista quando ha fatto quel tiro in diagonale nei primi cinque minuti c'erano tre giocatori della juventus in area liberi tre qualche volta quadrado alza un po la testa perché l'egoismo a lungo andare non paga per il resto della partita lasciamo perdere non so per quale motivo sia stato tolto ma non voglio neanche saperlo era in un momento di grosso nervosismo diciamo che forse lo pseudo allenatore fallito può anche aver fatto bene poi spiegherà il motivo locatelli 3 giocatore impresentabile lento che allora metti su una riga metti un bradipo drogato con i riflessi lenti e metti una lumaca a fare la corsa e ci metti locatelli nel mezzo lui arriva ultimo anche con questi due animali qui una lentezza che una roba da fuori testa giocatore inutile che non capisci quale ruolo abbia in campo e non capisci cosa debba fare ma giocatore veramente impresentabile in questo momento impresentabile in questo momento rabbio 6 anche stasera non è stato tra i peggiori forse non dico il migliore perché dopo vi sorprenderò vi sorprenderò non dico il migliore ma sicuramente uno fra i due migliori perché comunque ha lottato ha cercato di bloccare ci è riuscito ha provato due volte a ripartire ci è riuscito ha chiuso tutti gli spazi che ha potuto chiudere questa era più la partita col maccabì dimenticatevela perché un'altra doppietta era più la farà nel 2073 per il resto quindi mi limito al 6 costic 4 giocatore palesemente da un piede solo perché il destro potrebbe anche smontarselo e metterlo attaccato al chiodo il destro ha perso due occasioni che poteva fare due tiri letali e questa è la dimostrazione che stasera ha perfino giocato nel mezzo del campo tu dimmi te se un costic può essere messo nel mezzo del campo di va bene così abbiamo visto anche questa giocatore che ha sempre giocato soltanto e solamente sulla fascia ma va bene così poi l'incompetente sono io siamo a posto 4 e vlaovic un e mezzo un e mezzo stasera vlaovic ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare e anche di più forse è stata la peggior partita di vlaovic da quando è alla juventus non ne ha azzeccata una neanche ma niente ha sbagliato gli stopi controlli ha fatto il gol ha fatto lui praticamente il gol del 2 a 0 del milan un passaggio in orizzontale che se tu lo fai alle scuole calcio ti danno le toffe nella coppa qui sono le prime cose che insegnano nel calcio le prime cose sono queste non esistono i passaggi in orizzontale eppure li ho visti fare con sarri li ho visti fare con pirlo e adesso li vedo fare con allegri deve essere un male che si è insinuato alla continassa ci deve essere forse sarà bene demon che cominciamo a pensare a una macumba cosa dici cosa dici demon una macumba un qualcosa perché ci deve essere qualcosa di malato alla continassa che non si riesce a capire che cos'è ma vedremo milic 5 e mezzo ha provato a fare qualcosa è stato forse l'attaccante più pericoloso dei due tra lui e mili tra lui e vlaovic qualcosina ma poca roba troppo poco per poter pretendere di fare un gol mckenny 4 giocatore letteralmente irriconoscibile due anni fa compirlo è stato uno dei migliori centrocampisti non dico della serie a ma sicuramente della juventus non sbagliava quasi una partita è arrivato allegri si è involuto in un modo impressionante bo 4 miretti 5 prova lasciamo perdere paredes 5 ha toccato 5 palloni ne ha sbagliati 3 ha cercato di dare un po' di cos'è come si può dire ordine ma io da un centrocampista che deve far girare una squadra mi aspetto molto ma molto di più ciò non toglie che rimane arcano per il momento è misterioso il motivo del perché non sia partito titolare ken 7 gli do 7 gli do 7 perché è l'unico che ci ha provato è andato vicinissimo al gol per me da 7 7 esagerato può darsi che sia anche esagerato ma stasera ma voglio allargare gli do 7 almeno ha provato a tirare almeno ha provato a far qualcosa ha dato un po' di vitalità quando è entrato almeno quello rimane una capra che non sa stoppare il pallone perché sulla fascia sinistra quando ha provato a saltare un giocatore del milan e poi ha crossato al centro ha fatto un tiro che secondo me neanche il centrale migliore del mondo del gioco del rugby riuscirebbe a fare veramente ha fatto un tiro che non si sa quale tipo di insetto abbia colpito per il resto ha dato un po' di vitalità all'attacco e sulle niente senza voto non lasciamo perdere arcano rimane anche il mistero di che cosa ci stia a fare fagioli alla juventus devo ancora capire anche questa per un giorno anche tutti questi tutti questi arcani misteri un giorno me li spiegherà allegri me li spiegherà e per ultimo fantomas nonché acciughina nonché mago sorzone zero sotto tutti i punti di vista anche questa per me è una partita persa da lui formazione iniziale sbagliata gestione sbagliata ma soprattutto è una squadra che non è una squadra allora io nonostante i voti brutti che ho dato a voi che siete un pubblichino anche intelligente vi chiedo siete sicuri che dobbiamo dare le colpe ai giocatori siete sicuri io non ho questa certezza questo è un allenatore fallito che deve andare via perché questo ci sta portando al baratro più completo peggio dell'anno scorso perché quest'anno rischiamo anche di non arrivare quarti non solo di non vincere niente ma rischiamo anche di arrivare quarti bravo allegri bravo bravo allegri ma soprattutto bravo gnello bravo gnello bravo continua così gnello che stai lavorando bene grande forza juve